Apriamo la sfilata con il Podenko Ibisenko, il Samoyedo, Alaskan Malamut, Akita americano, Siberian Aski, Basenji, Chouchou, Walspitz, Shiba Inu e Spitz di Pomerania, i migliori soggetti di razza dell'ottavo gruppo, cani da riporto da ferme d'acqua, per cortesia nel pre-ring. Grazie a tutti. Li stiamo vedendo muovere singolarmente, prima il Podenko Ibisenko, poi il Samoyedo, ora l'Alaskan Malamut. E ora il turno della Kit americano. ora il Siberian Aski. dopo il Siberian Aski è la volta del Basenji. dopo il Basenji è la volta del Chouchou. Ancora tre soggetti che sfilano sul podio. dopo il Chouchou sarà la volta del Walspitz. i migliori soggetti di razza dell'ottavo gruppo. ottavo raggruppamento che sarà giudicato da Anita Marcus. nel pre-ring, prego giudice, nel pre-ring. abbiamo visto lo Shiba e ora la volta dello Spitz Nano. e stiamo per concludere il quinto raggruppamento. La giudice chiede un giro a tutti i soggetti. un applauso col quale accompagniamo il giro di ring. i migliori soggetti di razza dell'ottavo gruppo, cani da riporto, da cerca e da acqua, nel pre-ring. Selezione, l'uscita è dal lato opposto. grazie, l'uscita è dal lato opposto. selezionato lo Spitz, lo Shiba, Walspitz, Akita americano e Alaskan Malamut. allora il nostro assistente Marco ci comunica che al terzo posto si classifica Walspitz. Walspitz, piazza d'onore per l'Akita americano. vince questo raggruppamento, lo rivedremo tra poco nel best in show finale. Shiba Inu. ottavo raggruppamento per cortesia al bordo d'ingresso del ring. a presto. a presto. a presto. a presto.